quella luce blu a destra è il bar dell'angolo, il bar dove sostano i mondello il pomeriggio del 3 questo è il rifornimento dove Viviana farà benzina quel giorno e mentre adesso vi faccio vedere altri dettagli faremo una sorta di punto su cosa sappiamo con certezza e cosa invece non è certo anzi cerchiamo di limitarci a dire cosa è certo ovviamente chiunque è invitato a segnalare tutti gli altri punti qui sotto e magari poi faremo un video includendo eventuali aspetti che io adesso non tratto perché vado un po' a memoria nel frattempo però ne approfitto per farvi vedere come tutto accade casualmente in pochi centimetri guardate che Sant'Agata è un paese molto grande ma molto grande e invece tutto accade in questi 100 metri avete visto il bar avete visto l'agip questo è il negozio di telefonia e lì dove c'è quella tenda a destra era possaggiata la macchina del video di ieri quel video in cui c'era una persona che all'interno dell'auto diceva Sant'Agata vedete dov'era? prima di quella tenda là guardate dove è il negozio di telefonia che inquadra Viviana e dove va il marito il pomeriggio questa è la banca dove questi personaggi a loro volta vanno abbiamo visto la persona che scende da quella Alfa Romeo quella del video appunto messo ieri attraversare dalla sanitaria e andare verso sinistra per cui recarsi o al negozio di telefonia direi o alla banca allora partiamo con la vicenda invece di Viviana dall'inizio i punti certi della procura inizialmente sono un intervento di un'ambulanza a Casaloro a Venetico e una visita ospedaliera a Messina e una visita ospedaliera a Barcellona da questi punti emerge un certificato medico che attesta determinate problematiche mentali è un certificato redatto in modo molto discutibile ma è un certificato che è stato messo agli atti per cui c'è da verificare semplicemente se questo certificato è stato stilato a norma di legge oppure se fosse un falso questo non lo sappiamo ma la procura sicuramente ha avuto modo di verificarlo poi cosa sappiamo? allora sappiamo che il 30 la famiglia si reca a Catania dove Denise dovrebbe prendere l'aereo dico dovrebbe perché alcuni dicono che non lo prende ma anche questo è documentabile nel senso che qualcuno deve essersi imbarcato su quell'aereo insomma la procura lo può sapere facilmente sappiamo che il 31 vanno a patti il padre Luigino dice di parlare con la figlia per ultima volta il 31 poi sappiamo che l'1 probabilmente restano nella loro zona e che il 2 vanno di nuovo a patti a patti fanno tardi circa mezzanotte o poco più l'una e quindi queste sono le prime certezze della vicenda passiamo al 3 al 3 già abbiamo le cose che cambiano quindi le certezze del 3 sono la mattina alle 8 e 10 circa Viviana va in un supermercato e torna a casa intorno alle 8 e 30 poi sappiamo che alle 9 e 22 scende e parliamo quindi di immagine che la procura è data a quarto grado per cui dovremmo ipotizzare che sia lei perché ripeto certezze non ce ne sono ma se la procura dà l'immagine a quarto grado dobbiamo ipotizzare che sia lei perché parliamo di cose attualmente che dobbiamo dare per certe 9 e 22 esce 9 e 25 rientra in casa dove sta a quattro minuti io allora ho supposto che non salga sopra perché non ci sono i tempi di arrivare al terzo piano ma che vada semplicemente nello studio a risalutare il marito e alle 9 e 29 esce e queste sono le certezze ha fatto il sugo ha fatto il pesce imparato non si sa perché chiaramente questi sono riferimenti soggettivi dati dalla famiglia poi va al centro commerciale non si sa perché questo è un riferimento dato dalla famiglia prende l'autostrada da Mirazzo questa è una certezza la prende intorno alle 9 e 44 non abbiamo più nessuna consapevolezza fino al suo arrivo a Sant'Agata a Sant'Agata giunge alle 10 e 30 in punto e sappiamo che chiama l'operatore l'operatore che risponde dovrebbe essere quello di Patti o quello di Messina lei ovviamente dice di non avere probabilmente monete in realtà aveva carta di credito con cui poteva benissimo pagare il pedaggio ma non lo fa per motivi che non sono mai stati appurati ma sono ipoteticamente sospetti perché le giustificazioni date dalla difesa non mi convincono cioè il discorso del resto non mi convince assolutamente perché il resto la macchinetta l'avrebbe potuto tranquillamente erogare che certezze abbiamo su Sant'Agata? su Sant'Agata la certezza è che una telecamera la riprende alle 9 e 45 non sappiamo se fa benzina in entrata o in uscita sappiamo che fa un giro particolare perché ci sono almeno tre riprese di telecamere queste riprese di telecamere è accertato che vedono il bambino che si sporge fuori dal finestrino non sappiamo ovviamente la definizione delle telecamere per capire se Viviano è Viviano o non è Viviano questo non lo sappiamo perché non le abbiamo viste ma di sicuro il bambino si vede perché è fuori dal finestrino ok a Sant'Agata non credo ci siano proprio altre certezze quindi abbiamo un'inquadratura della telecamera sicura è definita dalla procura molto interessante da capire perché usino il termine molto interessante dal momento che non l'abbiamo vista non lo possiamo ancora sapere altra certezza prende l'autostrada di nuovo alle 10.52 si dirige verso Torre dell'Auro e fino a qui siamo nel campo delle certezze non abbiamo certezze assolutamente su come guidi fino alla galleria la storia che andasse a zigzag era un malinteso perché invece in quel caso ci si stava riferendo a come secondo alcuni testimoni camminava nel bosco l'incidente l'incidente è un discorso non chiarito perché inizialmente si presume che si alleandare sul furgone in seguito si presume l'opposto i periti sono al lavoro la certezza assoluta non c'è andiamo ora al discorso delle testimonianze cosa c'è di certo? di certo c'è secondo me poco allora partiamo dal ruolo dei fidanzati i fidanzati in una testimonianza dicono di vedere Viviana scendere dall'auto in galleria con una mascherina degli occhiali qui parla la fidanzata il fidanzato non vede completamente Viviana ma secondo gli atti della procura Cozza avrebbe letto che i fidanzati invece vedono Viviana fuori dalla galleria scavalcare il garderail col bambino che cammina con le sue gambe questa è una cosa che ha detto Cozza la famiglia l'ha smentita ma lui ha detto preannunciando questa frase non c'è alcuna ombra di dubbio perché l'ho letto io punto numero 2 testimoni del nord nella versione ufficiale fornita dalla procura ritrattano le prime indicazioni e vedono Viviana uscire dal lato superiore della galleria quindi scavalcare tra la galleria e il casello e dirigersi probabilmente verso il muro di Cinta perché da quel punto lì non c'è uscita c'è un salto di parecchi metri se non che l'ipotesi di scalare la galleria è uscire dal ponticello in alto ma ovviamente è un percorso impervio che con un bambino non è assolutamente fattibile quindi la procura ufficialmente dà credito a questa tesi ma noi abbiamo visto molte volte Cavallo scrutare il tratto esterno dell'autostrada guardando invece al punto indicato inizialmente dei testimoni 200 metri di lato Palermo e lo abbiamo visto altresì spesso sottolineare ma parliamo proprio già dai primi giorni come fosse difficile per non dire impossibile per una persona uscire da quella autostrada cosa che come sapete io ho provato personalmente e confermo secondo me non sia assolutamente possibile farlo quindi le certezze sono queste riguardo gli operai non ci sono certezze perché non è stato più approfondito il discorso ci si è limitati a quelle testimonianze in cui loro stessi hanno prima detto di aver visto Viviana in macchina poi hanno detto di non averla vista poi hanno detto di averla cercata fuori cioè stando alle testimonianze tutti l'hanno cercata fuori ma incredibilmente nessuno l'ha mai vista adesso c'è un buco perché non spiegando come lei possa essere uscita si passa comunque a parlare del bosco già questa cosa a me non mi ha mai convinto riguardo il bosco la procura dice che non esistono assolutamente morsi di animale anteriore al decesso e questa è una certezza poi la procura non indica un percorso inizialmente sappiamo che viene detto che Viviana va verso Palermo e si dirige verso il rifornimento che può diventare il campo base ma da una seconda analisi si dice esattamente l'opposto cioè che vada verso Messina anche questo sa molto di depistaggio quindi la procura non indica nessun percorso non indica nessuna ipotesi di aggressione dei cani e allora dobbiamo arrivare come primo riferimento ora al traliccio riguardo alla posizione di Viviana la procura non si esprime e noi sappiamo perché ovviamente lasciamo stare le congetture delle trasmissioni televisive il medico legale dice il giorno stesso in cui visita Viviana sotto il traliccio che le scarpe erano entrambe tolte questa stessa cosa la dice in fondo Daniele Mondello quando dice che una delle due scarpe si trova sprofondata al centro del traliccio perché al centro del traliccio c'è una specie di fondamenta in cemento e quindi una scarpa sarebbe lì dentro e l'altra sarebbe appoggiata ad una roccia lo stesso medico legale dice che il calzino è presente nei pressi del corpo quindi che non sia perso le condizioni del corpo sarebbero secondo la procura quindi la testa sarebbe in condizioni di forte degrado allo stesso modo sarebbe degradata anche gran parte degli arti superiori secondo la procura il corpo non è stato spostato di questo loro ne sono certi ovvero si è decomposto in luogo questo non vuol dire che nei primi minuti non possa essere successo qualcosa altrove fatto sta che da subito il corpo si decompone lì ma questa alla fine non è una grande scoperta perché sappiamo che il drone la inquadra già dal 4 nel punto dove verrà ritrovato sappiamo pure che negli ultimi giorni la procura probabilmente è arrivata a notizia di spostamento del corpo e probabilmente si riferiscono a ciò che accade proprio tra il 3 e il 4 e quindi stanno facendo degli ulteriori controlli e ispezioni ed è intervenuta la scientifica di Catania riguardo alla posizione di Gioele si è ipotizzato uno spostamento di 50 metri dal punto in cui viene ritrovato ma non c'è alcuna certezza perché anche quell'ipotesi di chi aveva detto che si vedeva chiaramente Gioele in una posizione differente da quella in cui è stato trovato non ha mai trovato ufficiali conferme secondo la procura non ci sarebbero nemmeno tracce di aggressione di terzi quindi non ci sarebbero tracce di aggressione né di animali né di persone altre certezze emerse dall'analisi dei cadaveri il tossicologico ha evidenziato che Viviano non avrebbe assunto né farmaci né droghe quindi sarebbe stata teoricamente in condizioni di lucidità altre certezze della procura sono ritrovamento di questi fogli certificati medici all'interno dell'auto questa è un'altra cosa certa poi cosa viene trovato inizialmente si dice anche il cellulare della signora fosse in auto cosa smentita vengono trovate una carta postamat codice fiscale della mamma e del figlio e carta di identità della madre e del figlio vengono trovate tre banconote da 50 euro e una di 20 euro secondo la procura c'è la certezza che Viviana a Sant'Agata abbia fatto il rifornimento quindi abbia scambiato una banconota da 50 euro perché per avere un resto di 20 euro è chiaro che con qualcuno deve aver parlato e che questo qualcuno le deve aver tornato il resto sicuramente avranno parlato quindi con chi gestisce il rifornimento un'altra mia certezza è che se tu fai un incidente a 100 km orari e distruggi la gomma anteriore destra di sicuro l'auto non ti resta così poco danneggiata ma un'altra cosa che io non capisco è che se la sua auto invece resta in condizione di muoversi a tal punto che Viviana la posteggia brillantemente a destra in autostrada mi chiedo visto che la posteggia a 24 metri dalla fine della galleria e la macchina cammina come mai ovviamente non fa la cosa che farebbero tutti cioè anche a costo di danneggiare leggermente di più la gomma che tanto ormai è andata percorre con la macchina quei 24 metri perché dalla galleria si vede che fuori uscendo dalla stessa c'è subito uno slargo quindi una mamma col figlio apprensiva e con la paura essendo a 20 metri dalla fine della galleria con una macchina che in qualche modo ancora cammina è ovvio che percorra questi metri fermandosi fuori dalla galleria invece chissà perché Viviana si ferma all'interno della galleria questo perché a mio avviso lei da quella galleria in ogni caso non uscirà mai o non deve essere vista nel momento in cui scende perché in galleria è molto più facile nascondere una persona che scende da un'auto rispetto a una persona che lo fa alla luce del sole quindi che sia Viviana o che non sia Viviana deve scendere in galleria perché non deve essere vista e poi deve sparire nel nulla ricordo che fuori dalla galleria a parte i testimoni del nord e secondo cosa i fidanzati ma questa è una voce smentita fuori dalla galleria non la vede nessuno per me è molto importante focalizzare l'attenzione sull'incidente e sulle testimonianze contraddittorie ma attenzione perché per me opera e testimoni in ogni caso sono degli ingranaggi di un meccanismo non sono sicuramente ciò che ha causato il tutto un altro discorso noto alla procura è che Viviana presenta diversi tipi di fratture nella parte centrale del corpo compatibili con una caduta dall'alto di fratture